Pronti? Ciao tatina! Guarda abbiamo pure scelto la porta Che stica questa cosa dell'intervista fatta così? Pappa su, pappa su, pappa su Pappa su, pappa su, pappa su No, facciamo così che sono più alto di quasi quanto tempo No, no, così è meglio ci vederà luce Senti, sei qua per dire una cosa bella Parliamo dei sogni? Assolutamente sì Oggi ne realizziamo uno Dici che riusciamo dopo tutto sto parasma Di quanto ti ho rotto le palle per realizzare il suo desiderio? Tantissimo, tantissimo Però è bella, è una bella cosa dai Di a chi vuole sognare che scrivano su desideriamo Perché è importante Questa matta vi risponderà La vedete così ma è bravissima Lo fa soltanto per il vostro bene Quindi se avete un sogno Un piccolo sogno che si può realizzare Con dei piccoli mezzi Fate lo scrivere E anche se volete anche aiutare altri Perché è bellissimo aiutarsi Assolutamente sì Quindi realizzate a realizzare No, come si può dire Aiutate a realizzare Aiutate a realizzare E realizziamo insieme E tu sei proprio bella E sono colmette di essere qua con te Perché stai per fare una cosa bellissima E vi racconto tra poco Ciao Ciao Ciao